o buongiorno carissimi amici del canale vi ricordo di iscrivervi oggi andiamo a vedere il fantastico borgo di assergi un borgo fortificato guardate la cinta muraria qui c'è un'opera moderna bellissima ma guardiamo la cinta muraria che si estende su buona parte del versante est quello che dà verso il gran sasso del borgo cinta muraria attualmente in restauro da parte del ministero dei beni culturali sta venendo davvero molto bene ma adesso è il momento di addentrarci all'interno del borgo che è ancora piuttosto rovinato dal terremoto ma tende a migliorare sempre più tant'è che presto diventerà un borgo meraviglioso quindi chi volesse investire compri case qui perché avranno una rivalutazione stupefacente scegliamo una delle strade e andiamola a percorrere per vedere il resto del borgo restate fino alla fine perché ci sarà da vedere la fantastica chiesa di santa maria assunta ecco prendiamo questa strada caratteristica con le sue casette antiche vecchie con il loro sapore antico ecco vediamo questo lampione che di notte farà sicuramente una luce veramente suggestiva questa parte del borgo è ancora abbandonata quindi dà una sensazione di lieve tristezza ma ben presto vi ripeto il borgo diventerà un qualcosa di veramente fantastico perché immaginatevi qui tutte queste case ristrutturate paese ai piedi del gran sasso quindi turismo veramente di qualità posto bellissimo tranquillo quindi un posto sicuramente dove si può vivere bene ecco qui vediamo che si vende questa casa quindi chi volesse seguire il mio consiglio di investire in questo posto potrebbe approfittarne dare che scalette fantastico un'altra casa in vendita guardate che scorcio lì giù splendido ma continuiamo ad addentrarci nel paese ecco un altro dei bellissimi lampioni guardate che portale con questi freggi questa finestrella in alto 1878 proseguiamo ancora come vedete non c'è anima viva meglio così perché la tranquillità è una grande cosa guardate che spettacolo di casa immaginate una casa del genere ristrutturata e capirete come questo borgo davvero merita molto ecco qui arriviamo in questa piazzetta davvero bella qui affittacamere a sergi qui questa è una casa ristrutturata e si può soggiornare c'è una fontanella guardate che palazzi questo è davvero splendido scegliamo un po dove passare guardate che scorci scegliamo di passare di qui una scaletta che sale a questa porta fantastico un'altra scaletta immaginiamoci qui in un in un inverno con la neve che atmosfera che si può respirare un'atmosfera impagabile davvero molto bello ci sono dappertutto scorci interessantissimi guardate questa casa per esempio è in ristrutturazione e verrà certamente molto bene guardate questa scaletta con questa porta proseguiamo proseguiamo e qui arriviamo al punto dove c'è la strada principale del paese questa ma io tornerei un attimino indietro per vedere un'altra interessante parte del paese che poi ci permetterà di risbucare sulla piazza della chiesa di santa maria assunta quindi ripercorriamo quindi ripercorriamo questo questa stradina che vista all'incontrario è forse ancora più bella guardate che spettacolo di casa questa ormai già ristrutturata vedete come è venuta bene ripassiamo sotto questo arco qui c'è un altro più basso bellissimo posto certo da da finire ma sicuramente chi ci vede lungo capirà che un posto del genere davvero merita alle pendici del gran sasso dove si scia tutto l'inverno ecco che abbiamo questa fantastica ambientazione paese antichissimo cinto dalle mura le abbiamo viste all'inizio non è un paese abbandonato tant'è vero che il ministero ha deciso di ristrutturare tutte le mura pertanto insomma questo ci fa pensare che alla fine il paese di assergi diventerà un vero e proprio gioiello da vivere tutto l'anno per i pochi fortunati che avranno la fortuna di scegliere questo paese per le proprie vacanze per la propria casa vacanze un vero spettacolo i monti li abbiamo proprio dietro e passiamo sotto questo arco casa già ottimamente ristrutturata vediamo le catene certo c'è ancora qualche casa da sistemare un po' ma guardate qui che portale che palazzo splendidissimo ed infine siamo arrivati come vi avevo premesso ecco che si staglia davanti a noi la fantastica chiesa di Santa Maria Assunta piazza bellissima con i suoi alberi di aceri e di tigli che stanno prendendo i colori autunnali guardate l'acero che fa le foglie proprio rosse guardiamo la fontana molto bella e quindi la chiesa che è stata anche oggetto di un mio precedente video ma la ripropongo qui in questo video escursione arrivederci a tutti e ricordatevi iscrivetevi al canale e quindi vediamo